Bisogna essere chiari su un punto, cioè che quando il gruppo che da anni lavora per la nostra città sceglie una linea, tutti dovrebbero seguirla e chiarire una volta per tutte la posizione all'interno del Movimento. E' oggi il turno di Rino Marinello, senatore pentastellato, rimbrottare apertamente Alessandro Curreri, consigliere eletto in aperta, anzi apertissima rotta di collisione col Movimento 5 Stelle, a seguito di alcune sue decisioni, l'ultima delle quali quella di rimanere in aula Falcone a Borsellino l'altra sera durante l'approvazione del patto dei sindaci, malgrado la linea dei grillini fosse ufficialmente quella di non partecipare ai lavori per protesta contro la maggioranza. Dopo Matteo Mangiacavallo Sabato e Teresa Bilello ieri, oggi dunque anche Rino Marinello dice la sua pubblicamente e lo fa auspicando l'unità del gruppo, ricordando che nel territorio al quale mi onoro di appartenere, queste le sue testuali parole, come gruppo Movimento 5 Stelle Sciacca siamo uniti sotto gli ideali e i valori del movimento, impegnati da anni contro i sistemi che impediscono lo sgruppo del territorio e stiamo ottenendo tanti risultati anche grazie finalmente al sostegno di un governo nazionale che realmente vuole cambiare ed incidere. Rino Marinello che poi dichiara di concordare pienamente con le dichiarazioni dell'altro giorno di Matteo Mangiacavallo, da lui considerato onesto, leale, capace, disponibile, competente, in una sola parola un leader. Il senatore pentastellato auspica la massima unità del gruppo, partendo però dal rispetto della linea, cosa che tra le righe sembra voler rimproverare a Curreri di non fare. Curreri che peraltro, come si sa, non vuole nemmeno cedere alla fascia di capogruppo e che non ha mandato a dire le sue critiche, evidenziando la necessità di ampliare l'assemblea anche ai dissidenti. Insomma, all'interno del Movimento 5 Stelle di Sciacca siamo alle dimostrazioni di forza. Lo stesso Mangiacavallo d'altronda ha sostanzialmente ribadito qualche giorno fa, replicando proprio alle critiche di Alessandro Curreri, che è il gruppo che vince, quello da lui capeggiato, nel senso che è quello che elegge i parlamentari regionali e quelli nazionali ed è una realtà nei confronti della quale il raggruppamento opposto dovrebbe prendere atto, mentre invece è in aperta contestazione con attacchi e campagne elettorali in cui Mangiacavallo e il suo entourage vengono considerati più che avversari interni. Ma noi, come Movimento 5 Stelle o Servamarinello, siamo impegnati nella nostra missione di cambiare l'Italia, sostenendo i cittadini, da quelli più deboli ai lavoratori, agli imprenditori e ci aspettano tante altre battaglie importanti e per vincerle c'è bisogno dell'impegno di tutti, con un'attività sinergica e con obiettivi comuni e condivisi.